Ecco qui il nostro iPad che adesso andiamo a vedere le caratteristiche Allora In basso troviamo il dock con i speakers al lato il volume su e giù e il blocco dell'accelerometro il tasto di accensione con il buchetto per le cuffie e accanto la sim questo è il tasto home andiamo a vedere dietro dietro c'è il segno Apple guardate io ho preso 64 GB wifi più 3G eccolo qua la sece che differenzia il 3G sul wifi andiamo ad accenderlo questo è il mio cane scusate come vedete qua c'è la data come vedete la data poi se clicchiamo qua ci sarà una presentazione ed è molto carina andiamo andiamo a fare una cosa veloce andiamo a vedere un gioco vedere un gioco e le note e il mail poi farò altre recensioni più approfondite questo è un gioco Angry Birds molto bello facciamo un livello molto bello molto molto bello appena tu devi lanciare questi tipi di uccelli e ammazzare tutte le cose verdi tutti i maiali verdi come succello appena tocchi turno indietro come un boomerang mentre questi gialli appena li tocchi accelerano ascoltate visto? ecco tatatatatatai magdaletti verdi andate a voi poi andiamo a vedere Touch Grind è un gioco veramente bello è un gioco che praticamente tu devi fare dei trick con il tuo skate aspettate questo o questo ciao a tutti e alla prossima ciao